Musica Proseguono con un'anima ecumenica i lavori di restauro della Basilica della Natività di Betlemme. Nel 2011 è stato messo a punto il progetto, seguito da cinque università italiane, poi nel 2013 hanno preso il via ai lavori che fino ad ora hanno interessato il tetto, tutti gli apparati decorativi interni ed esterni e le porte linee. Eseguiti da una ditta italiana, la piacenti S.P.A. di Prato e sostenuti dall'autorità nazionale palestinese, gli interventi sono stati possibili grazie all'accordo tra le comunità che custodiscono la Basilica, cristiani, greco-ortodossi e armeni, ma soprattutto grazie alle donazioni di tutti i paesi del mondo. Con noi la restauratrice Susanna Sarmati. La Basilica ha avuto un grosso intervento di restauro nel 1843 per mano dei greci e che abbia, diciamo, un po' completamente cambiato l'aspetto. Quello che noi abbiamo voluto fare è mantenere comunque l'aspetto di questo grande restauro del 1800 che aveva cambiato i pavimenti, i marmi dei pavimenti, aveva ricoperto tutte le pareti di intonaco. Però ridando una maggiore leggibilità, i frammenti di mosaico, dobbiamo ricordare, la Basilica era completamente ricoperta di mosaici, ne sono rimasti, diciamo, un 30% se non un 20%. Questi frammenti di mosaici, diciamo, li abbiamo liberati dall'intonaco che li scontornava, e gli abbiamo dato una maggiore visibilità e soprattutto abbiamo ricostruito l'unità visiva di quello che poteva essere l'intero partito musivo della Basilica. Le difficoltà maggiori nel restauro, che ora interesserà le colonne, i capitelli e alcuni dipinti, sono state incontrate nel consolidamento di tutti gli intonaci e dei mosaici, perché il restauro del 1800 fu soprattutto estetico più che conservativo. Un lavoro attento e scrupoloso, dunque, che ha portato a una scoperta inattesa, a cui ha fatto riferimento anche Papa Francesco, ricevendo lo scorso 16 giugno i partecipanti all'Assemblea della riunione delle opere di aiuto per le chiese orientali. Chiaramente tutti questi lavori sono stati preceduti da un'ampia documentazione scientifica, fotografica, grafica e da analisi sui mosaici, soprattutto perché noi sapevamo che altri mosaici forse o frammenti di mosaici erano presenti sotto l'intonaco, per cui tutte le superfici della chiesa l'intonaco sono state oggetto di un'ampia campagna di indagine termografica. Appunto, con questa indagine termografica siamo riusciti a scoprire in varie parti altri frammenti d'intonaco, ma soprattutto un angelo intero sulla parete nord, fra la quinta e la sesta finestra, che probabilmente perché non completo, mancano la parte inferiore, i capelli e l'aureola, era stato ricoperto nel 1800. Mi è stato riferito che proprio nel corso dei restauri a Betleme, su una parete della navata, è venuto alla luce un settimo angelo in mosaico che, insieme agli altri sei, forma una sorta di processione verso il luogo che commemora il mistero della nascita del verbo Fatto Carmi. Questo fatto ci fa pensare che anche il volto delle nostre comunità ecclesiali può essere coperto da incrostrazioni dovute ai diversi problemi e ai peccati. Eppure la vostra opera deve essere sempre guidata dalla certezza che sotto le incrostrazioni materiali e morali, anche sotto le lacrime e il sangue provocate dalla guerra, dalla violenza e dalla persecuzione, sotto questo strato che sembra impenetrabile, c'è un volto luminoso come quello dell'angelo e del mosaico. Quello che colpisce di più e colpisce ancora adesso è la cromia di questi mosaici che è veramente incredibile. Ci sono dei colori stupendi, abbiamo fatto una piccola tavolozza colori, ci sono otto gradazioni di blu nelle tessere, dodici di grigi. Ci sono delle cose veramente, e a vederli soprattutto puliti, noi che li abbiamo invece visti coperti da questa patina di fumo marrone, era veramente impossibile immaginare che c'erano questi colori veramente squillanti, bellissimi.